Cento, dunque una città provata, ancora porta delle ferite profonde a causa del sisma, è difficile spostarsi da una parte all'altra della città, anche noi con Luca che sta facendo le riprese per fare 50 metri abbiamo dovuto praticamente girare tutta la città. In questo luogo risuona la buona notizia, la parola del Signore, quindi insieme a Don Stefano diamo uno sguardo al Vangelo della prossima domenica, terza domenica di Avvento. Don Stefano, ancora Giovanni Battista con una parola forte, esigente, un invito alla conversione in questa che è anche comunque la domenica della gioia a metà del cammino dell'Avvento. La gioia che deve caratterizzare la vita cristiana, proprio perché la vita cristiana è l'accogliere un dono, un dono che dà senso alla vita, che dà pienezza alla nostra esistenza, un dono che va accolto, un dono che la cui venuta va preparata. Giovanni Battista, in questa terza domenica del tempo di Avvento, invita tutti noi a predisporsi per raccogliere un dono, che è un dono che viene dall'alto, che però da parte nostra deve richiedere disponibilità, apertura, preparazione concreta nella vita di tutti i giorni. Tanti interlocutori del Battista fanno una domanda molto concreta, che forse possiamo farci anche noi oggi. Che cosa dobbiamo fare? La concretezza è fondamentale perché la via del Vangelo passa attraverso la quotidianità, nelle famiglie, sul lavoro, nelle scuole, in parrocchia. Ognuno di noi personalmente deve affrontare dei doveri, deve affrontare delle situazioni che lo interpellano personalmente, per cui o come genitori, o come sacerdoti, o come studenti, o come dipendenti, o come persone che esistono nelle responsabilità nella società civile, dobbiamo rispondere a questo appello di Giovanni Battista, preparate la via del Signore, le nostre vie che passano attraverso i luoghi della vita, devono diventare diritti proprio per raccogliere colui che viene per la salvezza. È interessante notare che San Giovanni Battista non sposta nessuno dal suo compito, dalla sua responsabilità, anche i soldati. I soldati erano comunque una categoria un po' a rischio rispetto alle esigenze del Vangelo. Ciascuno rimanga al suo posto però cambiando il cuore. Sì, perché non è tanto la situazione di vita in cui ci si trova che può determinare la salvezza e l'accoglienza del dono, ma è l'atteggiamento dell'animo nella persona, nella sua coscienza, nella sua libertà, quando viene toccata, nella sua volontà, che può, là, in qualsiasi situazione, perché qualunque situazione, può essere trasformata dalla grazia di Dio, è la persona che si predispone ad accogliere questo grande dono. Don Stefano, che Natale sarà per le parrocchie di Cento? Sarà un Natale un po' pensoso, perché avevamo tanti progetti, parlo delle chiese provvisorie, poi per un motivo o per un altro, questi progetti ci sono stati tolti, ci sono stati impediti di realizzarli. Però questo essere pensosi si apre alla gioia, si apre alla speranza, perché comunque ciò che conta sono i valori con cui noi vivremo il Natale, il valore della pace, il valore della disponibilità, quei valori che sono fondati sul Cristo, il Verbo incarnato, per cui, pur nella sofferenza per quanto è capitato, pur nel disappunto per questi progetti che non si sono realizzati, però il Natale deve essere davvero un Natale vissuto nella fede e quindi nella gioia.